Ecco le cose strane di Eima 2022 Mai visto l'acqua in lattina? Difficile dimenticare un attrezzo che si chiama stecchete Questo non trince la legna La cancela Cancela tutto Anche le pietre Non è affatto semplice salire in cabina Rotopressa da 50 cm di diametro Solo per grandi appezzamenti Ecco ragazzi un sistema per fare Le derapate in sicurezza Col trattore Tanto elettrico per quanto è tamarro Mini airpige rotante Ma mini mini Allora Grazie mille